E' la cilone, noi aspettiamo che non è solo una cosa più dura. Allora, io sto facendo scopo di dire, la faccio di tre, la faccio di tre, la faccio di tre. Tu vedi, 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 ti dici, te lo metto dopo, il controllo, ce la farei. E' una persona reale, ma poi se no, la faccio di tre, la faccio di tre, la faccio di tre, la faccio di tre. E' la mia compagna, è la persona con la quale io li trovo bene. Io vado a dire quello che non mi va, perché i giovani non mi trecano. No, 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 dai 65 in su. Dai 65 in su. E' un'altra cosa più dura. E' un'altra cosa più dura. Dove hai messo la crema al mascarpone, la Paola? Paola, dov'hai messo la crema al mascarpone? Paola, dov'hai messo la crema al mascarpone? Paola, è un'intervista. Paola, è un'intervista. Paola, è un'intervista. Paola, è un'intervista. Non pode fare la crema al mascarpone. La posso fare a qui? Lella, Luizella, dov'hai messo la crema al mascarpone? Ah, non lo sai. Non lo hai messo la crema al mascarpone. Ah, non lo hai messo. Paola, è un'intervista. E' lì. E' lì. E' lì. Grazie a tutti.